GF VIP. Duro attacco ad Alex Belli. Prima o poi tradirai. L'ex fidanzata ha scritto una lettera al GF fino convinta che presto tradirà la moglie Delia Duran così come ha fatto con lei. Alex Belli non è il principe azzurro che vorrebbe far credere. È questa l'accusa mossa nei confronti dell'attore Damila Suarez. Sua ex fidanzata. La modella è tornata all'attacco. Qui il primo affronto. Contro il GFino attraverso una lettera pubblicata su DiPiù in cui preannuncia quello che secondo lei sarà il comportamento di Belli all'interno della casa. Specie dal punto di vista sentimentale. La Suarez è infatti convinta che il suo ex. Attualmente sposato con Delia Duran Nutra un'attrazione nei confronti di Soleil sorge e che ben presto non potrà più essere nascosta. La lettera di Mila Suarez contro Alex Belli Caro Alex. Anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella casa. La maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei. Un infedele. Lo sei stato con tua moglie Catarina e con la sottoscritta. E mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie. Delia. Sono queste le parole di esordio di una lettera al vetriolo nella quale Mila Suarez si dice convinta che presto Alex tradirà la moglie. Soleil ti è piaciuta subito. L'ho capito da come l'hai sempre guardata. Io Soleil la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei. Spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco. Prosegue. Fino alla stoccata finale. Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al grande fratello vip prima o poi tradirai. Il parere di Delia Duran su Alex e Soleil. Sul feeling mostrato da Alex Belli e Soleil sorge. Che dagli altri concorrenti non è vista benissimo. Era già intervenuta la moglie dell'attore Delia Duran. Che si era mostrata tranquilla e fiduciosa nei confronti del marito. Nonostante sia sempre stata molto gelosa. Secondo lei Alex vedrebbe Soleil solo come un accomplice all'interno della casa. Nulla di cui preoccuparsi. la storia tra Alex Belli e Mila Suarez. Prima di Delia. Alex Belli e Mila Suarez sono stati insieme per circa due anni. Tra il 2016 e il 2018. I due si erano conosciuti per lavoro durante un servizio fotografico per il quale lei era la modella e lui il fotografo. È stato un colpo di fulmine e poco dopo una fase di frequentazione la coppia è andata a convivere. La storia detta di Mila è finita per l'infedeltà di Alex. A quanto racconta la modella lui usciva spesso da solo e a volte non tornava a casa per giorni. in una di queste occasioni avrebbe conosciuto Delia Duran. Sua attuale moglie. Per la quale avrebbe deciso di lasciare Mila. GF VIP 6. Gli amori che non sbocciano. Ancora. Al di là della presunta attrazione di Alex Belli per Soleil. Sono altre le coppie su cui si è concentrato finora lo show di Alfonso Signorini. Dopo il flirt terminato ancora prima di cominciare tra Manuel Bortuzzo e Lulu. Sotto i riflettori ci sono ora i rapporti tra Sofì e Gianmaria e tra Mirjana e Nicola Pisu. Entrambe le coppie non hanno nascosto di essere interessate ad approfondire la conoscenza. Anche se per Gianmaria questo vorrebbe dire lasciare in diretta la sua attuale fidanzata Greta. Intanto sul triangolo fra Sofì, Gianmaria e Soleil sorgono alcuni dubbi.